Intanto il ragionamento che fa Spadafora è improntato a un grande realismo e questo secondo me è un fatto molto positivo perché il Movimento 5 Stelle che segue il ragionamento che ha fatto Spadafora non solo è stata negli ultimi anni una straordinaria novità della politica italiana ma lo è stata a livello internazionale cioè ha rappresentato nel suo modo di proporsi nella scena politica italiana e internazionale un fenomeno da studiare da molti punti di vista compreso i meccanismi di partecipazione ha obbligato anche tutti gli altri a tenere conto che esisteva un modo diverso di organizzarsi Ora Spadafora dice e io ne sono molto felice che la parola partito in qualche modo smette di essere tabù io penso che uno dei veri mali della politica italiana è che abbiamo in qualche modo abbandonato i partiti e li abbiamo trascurati e invece secondo me non c'è buona democrazia senza dei buoni partiti e quindi prima torniamo in forma rivista, moderna, digitale tutto quello che vogliamo a rifare dei partiti e meglio è vengo però alla mia domanda Spadafora che è questa in questo schema c'è anche una questione di collocazione sui grandi assi della politica di sempre voi avete fatto il governo giallo-verde prima, giallo-rosso poi tutti i frutti adesso, benissimo, ma la scelta di campo siccome leggo di una ipotesi dell'ingresso a livello europeo nel Partito Socialista Europeo la scelta di campo di alleanza strategica col Partito Democratico è la vostra scelta strategica e quindi penso anche ai dati che sono alle spalle di Gaia piuttosto interessanti, diciamo la prospettiva di un'alleanza politica che guarda a sinistra in una ricostruzione di un bipolarismo italiano è una scelta politica che possiamo dare per definitiva? Allora daremo per definitiva adesso con secondo me l'arrivo del Presidente Conte perché da quello che diciamo ho potuto vedere in questi tre anni mi sembra difficile pensare di chiedere al Presidente Conte di guidare un Movimento 5 Stelle che si collochi in un'area politica diversa da quella del centro-sinistra e quindi intanto direi che da una parte Ha guidato anche un governo con la Lega per la verità? Sì, credo se ne sia pentito Ok, comunque è successo Assolutamente, assolutamente Poi diciamo c'è anche un fatto puramente matematico ma in politica conta anche questo noi oggi abbiamo comunque, sì il governo di tutti va bene però abbiamo una Lega forte ancora abbiamo Fratelli Italia che cresce sempre più abbiamo un'area di centro-destra che quando nel 2023 si voterà partirà, mancano ancora due anni perché può accadere di tutto però ad oggi partirebbe diciamo così già con quasi il 40% al netto poi anche di Forza Italia adesso vediamo dai sondaggi che vedevamo anche prima che con Conte in realtà il Partito Democratico va in sofferenza però se resta questa legge elettorale, se resta un sistema maggioritario in effetti rimane comunque nell'ambio del centro-sinistra considerando il Movimento 5 Stelle nel centro-sinistra diciamo il consenso a quel punto ma anche se dovesse arrivare un sistema proporzionale è inevitabile che comunque noi si dialoghi se vogliamo poi portare avanti la nostra istanza al governo di più nell'ambio del centro-sinistra perché il Partito Democratico non sembra muoversi a me dal 20% di questo poi un giorno dovrà forse ringraziare anche Renzi perché questo governo che doveva servire a destabilizzare l'area di centro far scomparire il Movimento 5 Stelle e probabilmente rafforzare Renzi in qualche modo ha prodotto che invece il Partito Democratico rischia di scendere al 14% Renzi in questo governo che che ne dica è praticamente ininfluente forse anche però la linea Bettini voglio dire perché se poi o Conte è morte per un partito che invece non riesce a esprimere un'identità adesso Conte sembra appunto che possa essere il federatore anche di quell'area lì e ti di chi esprime? Io nelle settimane della crisi di governo ero sempre molto attento nel dire o così o nulla cioè o mai questo o mai quello abbiamo visto che nell'ambito di poche ore e non di pochi giorni siamo stati poi costretti a rivedere le nostre posizioni per questo ovvio che c'è un discorso anche all'interno del PD però mi sembra che noi abbiamo già fin troppe cose da sistemare a casa nostra però questo ci porta al discorso delle alleanze laddove si voterà nei territori comunali vedo Roma ma viene in mente anche Napoli tra l'altro quello è un bacino importante per voi dove siete abbastanza forti a quel punto chi esprime il candidato e chi sta con chi? Infatti secondo me la domanda del direttore Ditti si troverà già troverà una risposta già con questo tema il tema delle comunali è un tema fondamentale perché sarà il test vero dove noi potremo capire se possiamo continuare a sperimentare questa alleanza come io immagino col PD credo che lì dipenderà da un lato dal fatto di fare un tavolo a livello nazionale e quindi di decidere per tutte le città insieme e non per ogni singola città ovviamente questo nel rispetto però delle regole anche del movimento e quindi capire anche con l'arrivo di Conte come vorrà utilizzare per esempio la piattaforma russosa la vorrà ancora utilizzare nella scelta dei candidati a livello locale questo può cambiare molto Ma è solo Conte o Conte che decide insieme a... Io mi auguro che sia sempre Conte che decide insieme a un gruppo e che il Movimento 5 Stelle in questa evoluzione metta anche un punto fermo cioè quello di una democraticità che rende il Movimento 5 Stelle... Perché Conte non è un iscritto al Movimento 5 Stelle Non ancora ma al di là del fatto che lo possa divenire o meno io credo che la cosa importante sia che il Movimento 5 Stelle non cambia ogni volta le regole in base alla necessità o in base alle persone ma si dia delle regole democratiche che possano essere come dire adatte almeno nei prossimi dieci anni indipendentemente da chi protempore vorrà decidere di guidarlo Questa è anche la prospettiva del partito moderato e liberale di cui parla Di Maio? Sì, penso di sì Adesso ci sono state molte polemiche su questo suo moderato ma soprattutto sul liberale Ha detto lui? Sì, sì, no, no, no Ma infatti non era... Era proprio per dire che adesso diciamo siamo veramente da questo punto di vista andati molto oltre oggi dobbiamo spiegare anche a dei ragazzi e dei giovani che cosa sia un partito moderato e liberale Ecco, io per esempio spero che il Movimento 5 Stelle riesca a recuperare molto di più il voto dei giovani che ha perso totalmente negli ultimi anni Torno un attimo